Grazie a tutti. 1, 8, 8, 30 siedola. Ha bocciato. Sono i tre, stanno scappando. Ci sono tre persone a parto. Sì, hanno bocciato una macchina all'ingresso, la vita iniziale. 1, 8, 8, 30 siedola. Andiamo sulle 35, verso 70. Ha bocciato due macchine. Sono tutte e tre minori. Doucemente, doucemente, che filmo sa tête, che filmo sa tête. Fermati qua. Adesso arriva la polizia. A lui. Anche a lui. Tu stai fermo, giù per terra. Seduto. Mi hanno affermato. Mi arriva arrivato a piedi. Anche lì, è ristato. Anche non c'è di lui. Sto rientrando perché stanno scappando a piedi. Perché stai a piedi sul furgone? Allora, stiamo rientrando. Siamo in direzione... No, il furgone è fermo in autostrada. Lì è la tangenziale. Stai fermo!